Una sera ho visto alla televisione uno scienziato asserire che un uomo non può avere nella vita più di 3.000 orgasmi. Ora, io mi masturbo tutti i giorni, non proprio tutti ma quasi. Diciamo che ci sono dei giorni che non me le fo, però ci sono dei giorni che me ne fo due, perché sicchene se in un anno 365 giorni a essere buoni leviamone 65, diciamo 300 in un anno. Dio bene. Indi per cui, io ho iniziato a masturbarmi a 12 anni, ora ho 30 anni, sicchene è 18 anni che mi masturbo. Quindi, 300 per 18, allora fa 3, 6, 9, 12, 12, 18, 2000, 2002, 2004, una sega riportavo, 5.400. Sono fuori di 2.400. E che vuol dire? Vuol dire che sono fuori dalle regole? Ormai non posso più tornare indietro. Lo sai che? Ho fatto 2004. Fu 2004 e uno. Vai! Lo sai che! Noi! Noi! Non ci sono! Noi! Noi! Ma!